Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al nostro immancabile appuntamento mensile in linea con l'economista, sono Giancarlo Brisco ed è un vero piacere per me essere qui con voi stasera per subito dopo i dati dell'inflazione per vedere un po' la situazione dei mercati dopo le nostre ultime analisi se ci sono stati dei cambiamenti o meno. Ovviamente cambiamenti non ce ne sono stati e dovremo solo verificare alcune criticità tipiche del mese di maggio ma anche qui abbiamo un bel po' di cose da dire, ovviamente le mie analisi saranno sempre basate su dati, soprattutto i flussi di dati, i posizionamenti che sono quelli che ci danno un'idea generale di quello che sta facendo il mercato. Da lì avere un'idea anche noi su come possiamo posizionarci. Vi invito come sempre a lasciare le vostre domande nella chat, abbiamo sempre i soliti 40-45 minuti, quindi se avete delle domande degli strumenti in particolare io cercherò di toccare ovviamente tutti gli strumenti più importanti, sono a vostra disposizione. Grazie, tolgo la telecamera, andiamo a guardare direttamente la situazione del mercato, cominciamo ovviamente dall'SP, qui cominciamo a fare i nostri commentini. Ovviamente dobbiamo sempre tenere un occhio a tutti i macro dati che sono utilizzati per creare poi quei posizionamenti che ci permettano di capire poi il reale trend di mercato. Sostanzialmente da aprile non è cambiato assolutamente nulla sull'SP, anche qui ne ho sentite di cotte e di crude, crolla tutto, sale tutto, allora come sempre gli eccessi non aiutano la nostra operatività e dobbiamo sempre lavorare con quello che ci offre il mercato. Noi dal nostro ultimo appuntamento mi sembra che era metà aprile o qualcosa del genere, sostanzialmente l'SP non è mai sceso, è rimasto laterale. Una domanda ovviamente viene spontanea, che cosa sta succedendo? Allora per rispondere a questa domanda dobbiamo partire un attimino a fare dei ragionamenti dal martedì scorso possiamo dire, abbiamo visto un super rialzo verso fine aprile, abbiamo avuto delle ulteriori pressioni rialziste sull'SP, abbiamo visto come il mercato abbia andato a toccare quasi i massimi annuali di febbraio, e qui sta stazionando. Ovviamente bisogna specificare quali sono i rischi, ma bisogna anche capire come ci possiamo arrivare a questi rischi di ribasso e quali sono le ragioni per cui il mercato riesce ancora a mantenere questo trend rialzista. Allora rapidamente facciamo un punto della situazione sia tecnico che macro, in modo tale che avete un'idea anche delle cose che poi potete anche approfondire per vostro conto. Io comincio direttamente da Powell, il quale ha detto quello che più o meno ci si aspettava, abbiamo visto un aumento di 25 basis point, ma c'è una frase che ha colpito un po' la platea. In realtà più che ora la frase è importante, ma anche nel contesto di come è iniziato la riunione, se voi ricordate, quando chi era presente alla Scalping Live con Riccardo, vi ricordo diceva, la prima cosa che vi disse, attenzione, Powell parta direttamente con la questione della crisi del sistema bancario. La cosa, diciamo ovviamente, destrava un po' di sospetti e alla fine abbiamo capito l'arcano, da dove è venuta questa iniziativa di andare direttamente su un tema ovviamente spinoso. Se fino a marzo, soprattutto nelle ultime due riunioni, il signor Powell ci ha sempre ricordato che i rialzi venivano decisi prima, prima della riunione, ecco perché poi apparivano tutti quei membri della Fed, se ricordate, a gridare a destra e manca, dobbiamo alzare i tassi, adesso le cose sono un po' cambiate. Può essere visto sia in maniera positiva che negativa, io lo vedo in maniera più positiva, vi spiego il perché. Powell ha usato una frase specifica, non ve la dico in inglese, ma vi dico essenzialmente quello che voleva dire, tutte le prossime mosse della Federal Reserve dipenderanno dall'evoluzione dei dati macro e della crisi del sistema bancario. Una cosa da notare è che, per esempio, per farvi capire questa situazione, è una mossa molto furba da parte di Powell, perché in realtà è come tenere i piedi in due scarpe. Che cosa significa l'evoluzione della crisi nel sistema bancario? Beh, semplicemente significa una cosa sola. Powell vorrebbe continuare a fare il rialzo dei tassi, ma allo stesso tempo, il fatto che lui ovviamente, come tutti ci aspettavamo, si apriva una pausa, non a un taglio o una pausa, ci fa pensare che se questi disastri bancari cominciano a essere troppi, o si va fuori controllo, allora bisogna tenere pronta già la difesa. Quindi il fatto che io non alzo più i tassi e compro i titoli di Stato è di queste banche, è già un quantitative easing, è già uno stimolo monetario. Ovviamente una scelta del genere implica anche il fatto che i mercati potrebbero restare laterali, non scenderanno e non saliranno e rimarranno in un range ancora per molto tempo. La questione è tutta da vedere ovviamente, però questa scelta potrebbe poi portare i mercati a rimanere neutri per ora. Poi, la questione dei default bancari ovviamente sta mettendo la Fed, cioè sta obbligando la Fed a sostenere la pressione all'acquisto da parte della stessa a comprare i buoni del tesoro. Vedo già che qualcuno ha fatto un commento dicendo che i yield sono arrivati al 3%. Ovviamente una situazione di questo tipo ci obbliga a pensare che non può essere che una notizia positiva, perché il trend al ribasso dei rendimenti del tesoro è una notizia molto positiva. Ovviamente questo significa solamente una cosa, il dollaro rimarrà debole. Avremo dei momenti di recupero, io me ne aspetto più in estate, quando tipicamente anche l'inflazione tende a salire un po' a livello ciclico, però con un dollaro che sostanzialmente non sale verticalmente avremo ovviamente oro e cripto che rimarranno tonici, con tutte le conseguenze del caso. Ora, per quanto riguarda la situazione finale di questa considerazione, possiamo dire come considerazione finale che Powell ovviamente crea degli scenari su cui ragionano gli investitori. Che cosa è successo? Sia i trader bond, sia l'equity cominciano a scontare uno scenario di taglio dei tassi. Tenete presente che ovviamente questa situazione delle crisi bancarie ha anche un aspetto più politico, perché si sta cercando di creare un oligopolio delle grandi banche, soprattutto anche per il tema cripto, quindi anche questo rientra un po' in questa confusione che si sta creando all'interno degli Stati Uniti. Però, come vi ho già detto, anche qui non ci perdete troppo tempo, il fatto che falliranno altre banche non significa necessariamente che i mercati andranno a crollare, anzi, se la Fed continua a sostenerli, come vedete gli yield continuano a scendere piano piano e allora la cosa è positiva. Perciò questa situazione crea un problema di scenari, scenari che devono essere cercati di essere scontati. Quindi tutto si rifà a questa benedetta recessione su cui io non sono d'accordo, almeno per ora. Si parla di una recessione, ma la parola recessione è un problema, qui avrei bisogno di stare ore per spiegare una problematica sbagliata, anche perché noi siamo entrati in recessione già l'anno scorso, ve l'ho già detto. I dati macro dall'anno scorso sono migliorati, da fine anno, e quindi i mercati sono anche saliti per questo. Poi abbiamo avuto le trimestrali, le grandi corporazioni non hanno deluso, ovviamente i ritorni futuri sono messi in dubbio. Anche qui potrei stare ore a dire qualcosa che già molto di voi sanno, ma questo non significa che se da una parte l'inflazione può erodere i ritorni futuri, questo non significa che queste imprese non abbiano già presi gli opportuni provvedimenti, che ci saranno dei momenti un po' difficili. Ma più di vedere proprio una dichiarazione di recessione tecnica, questo l'ha detto anche Bloomberg, che ha fatto delle analisi molto concrete, si parla massimo di due trimestri. Il problema della recessione è un problema che deve essere discusso anche in base alle aree geografiche, perché per esempio le grandi corporazioni americane fanno i soldi all'estero, non in America. Quindi anche se entra in recessione tecnica, non è che Amazon perde chissà che, nel senso perde ma può sostenere benissimo il colpo. Quindi dovete stare molto attenti su questi punti, però sono troppi punti e si rischia di ritrovarci poi in una situazione di confusione. Quindi andiamo sempre un po' a quello che è la base di queste analisi macro, che sono le mosse della fede, perché da lì dobbiamo cercare di capire come si muoverà il mercato. Stiamo assistendo alcune giornate di risk off, stiamo vedendo in generale una esposizione che abbandona il settore energetico, banche, eccetera, per andare a comprare il tech. Semplicemente, sempre per la stessa ragione, il tech ha una maggiore visibilità sugli utili futuri e quindi si compra il Nasdaq. Che sia discutibile la scelta, ci può stare, ma con un mio carissimo amico sto discutendo proprio le performance proprio a livello fondamentale di tantissime compagnie tech che realmente, a parte graficamente, stanno invertendo su base mensile, ma anche i numeri fatturati che stanno crescendo. Quindi, anche qui, parlare di futuro, sì, però vediamo a fine anno come arriviamo. Poi, magari, falliscono troppe imprese, i costi di finanziamento sono insostenibili, le famiglie non spendono più, e allora vediamo che cosa fa il mercato. Io devo sempre ragionare in base a quello che deve fare il mercato, non quello che è l'economia reale. L'economia reale, sì, è un disastro, perché i mutui, mediamente, sono saliti un 50 euro al mese, ho capito, però, a livello di operatività a me, queste informazioni mi devono servire in relazione a quello che io posso fare come operatore. Per cui, al di là delle conferenze di queste persone, al di là di tutto, quello che a noi interessa è quello che stanno facendo gli operatori, che scenari stanno sposando. Per esempio, venerdì i mercati sono saliti probabilmente, non tanto, diciamo, a parte che il mercato comunque è ancora rialzista il laterale, ma, per esempio, quello spike che sarà dovuto sicuramente a delle chiusure di posizioni short sugli ETF e sull'ETF del regional banks. Perché? Perché ormai lo short interest è arrivato così basso, sempre il 99%, che hanno chiuso le posizioni short. Per esempio, quel settore lì, in futuro, potrebbe essere molto interessante per acquisti di lungo periodo quando la pressione short verrà eliminata, no? Quando si risolverà questa situazione, quel settore lì potrebbe avere una grande rinascita. Vedete? Bisogna ragionare sempre in termini di opportunità. Per esempio, un altro indice che vi consiglio di seguire, molti di voi pensano che lo fanno già, è Russell, perché le small cap sono su un supporto importante. L'ETF sta dimostrando che può salire un 10%. Un'idea, ovviamente, non è un suggerimento di investimento, è semplicemente guardate, ci sono cose dove ci possono essere opportunità. Questo per farvi capire che al di là di quelli che sono le urla degli analisti, long e short, cade tutto, a noi interessa sapere dove possiamo guadagnare ed è quello che dovete fare. Quindi a me, per esempio, il fatto della recessione, a cosa mi serve in questo momento? Mi serve capire che scenari stanno sposando gli operatori e poi veniamo anche a quello che è successo oggi. Ok? Per esempio, gli scenari macro, quello famoso scenario del soft landing, l'atterraggio morbido, è quello che piace a tutti gli operatori. Perché? Perché si vede il vecchiero mezzo pieno. Si compra perché ci sono tanti gestori, comunque potrebbero farlo, molti di più, perché sono sottopesati e quindi possono tornare a ricomprare proprio le azioni e quindi spingono gli indici verso l'altro. Poi ci sta uno scenario che si chiama rolling recession che è uno scenario molto interessante perché questo per esempio sono alternative interessanti che poi nell'ottica operativa aiutano molto. Avremo una recessione però settoriale con tempi diversi. Quindi, ad esempio, avremo settori che soffriranno di più e il loro bottom, quindi il loro, diciamo, punto più basso, potrebbe essere raggiunto con tempi diversi. Quindi un settore esce magari dalla recessione dopo un mese, un altro dopo tre mesi, eccetera. Capite? E quindi che cosa succederebbe? Anche qui una cosa positiva perché l'economia americana non andrebbe in recessione ma solamente un rallentamento. Magari per molto più tempo ma senza andare in una recessione effettiva. Quindi anche questo è interessante perché sposerebbe lo scenario della Fed di comunque vedere un mercato che comunque si mantiene stabile perché c'è un rallentamento ma non una decrescita che è diverso e i tassi mantenuti stabili. Quindi questo è uno scenario che permette comunque di vedere acquisti azionari. Poi c'è lo scenario peggiore che la stagflazione. Ovviamente quello è il peggiore in assoluto. Inflazione alta, bassa propensione al consumo e in una situazione del genere non andremo da nessuna parte perché avremo con un'inflazione alta un'economia che tende piano piano ad andare verso la recessione e ovviamente i consumi scendono sempre di più perché il potere di acquisto scende sempre di meno. Ok? Ci sono vari... Non ho molto tempo. Questo scenario per esempio arriverebbe da vari... Per esempio problematiche. Quelle che sono interessanti... Cioè la più interessante è solo una, il credit crunch quindi la restrizione del credito. Poi c'è la questione del tema del debito per ora non la tocchiamo perché anche lì sono sempre le solite faide politiche. Per ora lasciamolo stare. Pensare a un default tecnico perché non non si accordano i repubblicani e democratici è un suicidio politico o vorrei sapere chi politico vuole essere responsabile di una cosa del genere. Quindi lasciamola stare. Ci possono essere per esempio alcuni fattori climatici come il famoso il nigno, il tornado, l'uragano, però lasciamo un attimo stare è pure questo. Il credit crunch. Qual è la situazione che sta... Cioè la Fed perché è contenta tra virgolette di questa crisi bancaria? Perché fa il lavoro sporco al posto suo in quanto è un minor credito all'economia reale quindi tempi duri per le piccole e medie imprese e anche per il settore del real estate. Quindi i salari devono diminuire perché giustamente ho i licenziamenti quindi i posti di lavoro scendono abbiamo raggiunto l'obiettivo inflazione scende automaticamente e quindi tagliamo i tassi per aiutare l'economia a risalire. Ecco che cosa nella mente di Power sta passando quindi capite bene come già dichiarato anche la Lagarde che dice che ci sono meno crediti erogati è chiaro perché i costi di finanziamento mica se li possono permettere tutti a questi livelli e anche aumentare i prezzi non è che risolvi il problema dei tuoi prodotti no? Perché poi alla fine devi vedere fino a che punto riesci a vendere come prima con prezzi più alti fino a che punto il consumatore può arrivare a spendere quella cifra poi dipende sempre dai settori e bla 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 ok? quindi che cosa succede se l'offerta di credito si rigidisce l'economia ne risente quindi la crisi bancaria finisce per sostituire e amplificare gli effetti negativi derivanti dai rialzi dei tassi e quindi al di là di quello che dice la Fed i rischi ci sono ma questi rischi qui io li vorrei vorrei vedere nel tempo nel senso non è che dalla mattina alla sera si chiudono i rubinetti nessuno ha più i prestiti vediamo per esempio fra sei mesi come va a finire questa storia da lì si che ci sono dei rischi seri di vedere situazioni compromettenti questo per farvi per darvi un'idea un po' anche di quello che vede il mercato come lo sta vivendo e quello che sta succedendo ma poi c'è anche un'altra cosa che vi voglio dire sono i posizionamenti qualcuno avrà visto già dei grafici con dei fondi edge che hanno posizioni in equilibrio ma la cosa interessante secondo me e da qui arriva anche un segnale interessante per i mercati e la differenza tra chi sta usando gli algoritmi e chi fa chi usa magari dei modelli o comunque usa dei parametri completamente diversi io già vi accennai qualcosa nella diretta con Riccardo proprio per torcarvi un attimonte ma molto interessante che cosa hanno fatto i fondi quantitativi quelli che usano gli algoritmi vedendo un abbassamento della volatilità e prezzi in leggera salita da fine ottobre hanno cominciato a comprare arrivando ovviamente adesso veramente belli carichi perché i loro algoritmi giustamente i modelli che utilizzavano dicevano che avevamo la struttura ideale per comprare e quindi lo hanno fatto ok quindi il gestore non ha fatto altro che eseguire quello che diceva l'algoritmo quindi gli indici sono saliti ma la maggior parte non ha ancora capito il perché in realtà sono cambiati i propri parametri ok mentre i gestori quelli là i famosi hedge funds i fondi long quelli che comunque devono fanno un'attività di un certo tipo con dotazioni molto importanti da parte dei clienti continuano a essere bearish quindi sono short comprano i difensivi e continuano a aumentare le loro posizioni short la cosa interessante è che alcune statistiche hanno dimostrato che non si è mai visto una divergenza così grossa tra questi gestori tra quelli umani e quelli diciamo non umani ecco diretti dagli argomenti non intelligenza artificiale attenzione ci arriveremo anche lì un giorno ma c'è ancora tempo e ovviamente c'è un problema che voi dovete capire che alla fine il mercato vive sempre di inefficienzi tecniche una parola che io non mi stancherò mai di dire voi immaginate di essere uno di questi gestori no che cosa succede io continuo a stare short da sei mesi magari continuo anche in estate qualche drop arriva qualcosa riesco a prendere quindi continuo a shortare va bene ma tenendo presente che l'SP si trova al 50% dal ritracciamento no del del minimo del 2022 e c'è adesso siamo nel contrasto finale no potete immaginare che cosa che cosa non sta succedendo adesso perché è chiaro che adesso qui comincia la battaglia finale tra rialzisti e ribassisti quindi quello che vedete è che i prezzi sono arrivati in questa zona rompiamo non rompiamo i nuovi massimi annuali oggi li ha fatti il Nasdaq ci sto per informare poi ovviamente è sceso ma ci sta questi picchi vengono fatti apposta poi vedremo adesso se questa situazione cambierà ma alla fine tutto gira intorno ai tassi perché come vi ho detto chi ritiene anche oggi il mercato è arrivato con quella stessa testa mercati taglia cioè taglia la Fed taglia i tassi sicuramente a luglio già lo potrebbe fare quindi compriamo i tech perché alla fine pure se sono un po' sovra performanti però in questo meglio in un contesto di ralentamento magro meglio stare posizionati con questi titoli che come vi ho detto hanno un'alta visibilità degli utili futuri altri hanno sposato lo scenario dell'atterraggio morbido quindi una Fed ancora restrittiva in un'economia in rallentamento ma che mantiene quindi in questo caso qualcuno ha detto bene se la Fed ha il controllo allora compriamo i titoli ciclici ok con valutazioni che sono più contenuti quindi questo contrasto che cosa ha portato a una situazione apparentemente di stabilità ma in realtà non è così e vi spiego queste persone i gestori umani purtroppo hanno dei limiti temporali perché perché all'avvicinarsi della fine dell'anno poi questi qua devono presentare i conti ai clienti e giustamente se io vado a vedere che l'SP per dirvi ha fatto più 10 quest'anno io ho fatto meno 2 meno 5 cioè che gli dico al cliente quindi arriveremo di nuovo a quello che è successo nel 2019 è successo anche l'anno scorso e succederà ancora i tecnicismi quindi che cosa arriva la famosa FOMO mancano 3 mesi alla fine dell'anno e io qua devo comprare se no a questi che gli faccio vedere e quindi si fa il famoso window dressing e bla 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 e quindi per non perdere il treno arriva questa FOMO questa paura di perdere e via compriamo la paura che perdiamo il treno dobbiamo accodarci quindi anche gli edge fund switchano le posizioni e il mercato sale immaginate che cosa succederà quando arriveranno le intelligenze artificiali lì mi faccio le grasse risate alla fine è sempre la solita storia perché in realtà questi mercati anche i gestori dei fondi non hanno ben chiara la situazione ma in realtà hanno vinto i fondi quantitativi perché se tu hai un abbassamento della volatilità il modello tramite centinaia di indicatori che loro utilizzeranno proprietari ti dice che il mercato va comprato e non venduto hanno fatto una scelta corretta non è che la macchina adesso diventa migliore dell'uomo attenzione però i calcoli fatti sono stati corretti noi abbiamo visto la stessa cosa e noi abbiamo seguito il mercato rialzista da ottobre medio periodo poi è chiaro che ci manca un ultimo step lo sappiamo tutti l'SP deve assolutamente rompere il massimo di agosto 2022 per darci la conferma definitiva che il mercato è pronto a risalire lo vedete quest'ultimo step a 4.300 che ci darà il via libera al rialzo ma chiaramente qualcuno dirà eh ma qua può crollare tutto io sono allora io sono sempre pragmatico e faccio i miei sbagli non c'è problema però per aprire uno short multi day come come si deve qui ho bisogno di vedere qualcosa di molto più corposo allora fatemi vedere 3-4% drop 2-3 giorni che scende sempre allora cominciamo a ragionare anche qui la situazione è la stessa i livelli dai chiave sono sempre gli stessi 4.100 li abbiamo recuperati ora negli ultimi movimenti queste tre candeline che voi vedete qui anche per l'SP la situazione è chiara cioè qua la situazione comincia a traballare sotto i 4.000 4.000 4.040 la situazione può cominciare a traballare ma torniamo allo stesso punto di prima se anche dovesse crollare come ha fatto a febbraio e ci sta perché c'è il famoso Sally May dobbiamo sempre vedere se lo fanno ma ci sta qua bisogna sempre seguire anche le logiche delle statistiche vanno a stornare e oggi il mercato magari comincia a scendere un bel po' perché ci sta dove possiamo arrivare a 3.900 bene ma si arriva qui e mi fa la stessa cosa che ha fatto qui il mercato non scende quindi non è una questione di non approfittare di eventuali ribassi no? non è una questione di non approfittare di queste eventuali situazioni è la questione che in questo mercato qui ci sono delle reazioni legate a posizionamenti short per esempio quando il mercato comincia a scendere chi ha le opzioni put fa delle coperture quindi carica di più in quella direzione ma paradossalmente proprio questa esposizione un giorno obblicherà poi a chiuderla perché se il mercato la struttura di medio periodo rimane lunga è molto difficile cambiare questa struttura sto parlando proprio nel medio lungo per cui noi andremo a verificare ovviamente mese e mese questa situazione per ora questi quattro mesi abbiamo visto un ottimo rialzo siamo d'accordo che questo mese ci sono come vi dissi io me l'aspettavo più a metà maggio ma ci siamo ci possono essere degli storni importanti in questo momento ma ovviamente il fatto che mi va a toccare una media quello che volete conta poco c'è il fatto che abbiamo questi grandi short posizionati che sono anche per proteggere posizioni long sempre hanno anticipato in generale i bull trend di medio periodo proprio per gli switch che poi molti devono essere obbligati a fare quindi quello che dovremmo andare a vedere in questo mese è capire ovviamente una certa entità che può essere un 5% vedremo se ci sarà ma dobbiamo rompere almeno questo livello qui 4.000 punti lo usiamo come un po' uno spartiacque ok quindi su intraday su settimanale anche provare qualche shortino non è un problema ci sta però teniamo presente che io qui non ho cioè qui io vedo solamente range l'SP sta bloccando in un range scarso di 100 punti da inizio aprile adesso vedremo se ciclicamente questa è una fase tipicamente correttiva non c'è niente da dire potete anche utilizzare il forecaster di Luca che è molto interessante il nuovo lavoro che hanno fatto per avere la riprova di queste situazioni ma da qua a parlare il mercato crolla ho bisogno di molte più conferme cambio di sentiment crolli verticali magari non compriamo aspettiamo però non possiamo fare il gioco delle tre tavolette che ogni candela rossa scende sale graficamente ovviamente oggi siamo arrivati anche in un bel momento perché vediamo effettivamente che dopo il dato dell'inflazione abbiamo assistito un po' a un'idea da parte del mercato che la situazione anche se il dato rimane con un marginale ribasso che era un po' quello aspettato che si aspettava ed è arrivato il problema è che dovete capire che probabilmente gli operatori non potrebbero non dare così per scontato il taglio dei tassi anche perché dovete capire una cosa questo è importante non è che la Fed se fa la pausa poi taglia subito ovviamente passano almeno sei mesi fatto sempre così quindi una strategia in questo momento magari cavalcare un po' di negatività potrebbe essere positiva però i margini sono veramente stretti quindi il mio obiettivo adesso è capire se i mercati in questa fase saranno in grado di reggere o meno come vi ho detto a metà maggio c'è una fase ciclica potremo assistere uno storno prima o dopo questa nata poi da fine maggio dovremo partire con la ciclicità positiva quindi giugno luglio sapete positiva e poi ovviamente agosto settembre il momento dei rollover questo è un po' il piano vediamo se poi l'area dei 4.000 non riuscirà a tenere e vedremo pressioni molto forti allora dovremo switchare la nostra view ma come vi ho detto l'unica modalità che abbiamo come buoni operatori è controllarla mese e mese continuamente non mi vado a fare infischiare da una semplice candela rossa ve lo dissi già e se anche questo dovesse scendere 7-8% e mi torna qui non è cambiato nulla nella struttura generale problemi nascono se area 3.800 ad esempio viene abbattuta ma avremo tutto il tempo per capire se qui comincia un movimento verticale che dura più di una settimana così si fanno le analisi allora possiamo anche cavalcare dei trend particolari quindi abbiamo visto l'SP abbiamo visto per esempio il TEC che oggi ha fatto un nuovo massimo annuale ma anche il TEC ha la sfida famosa dei 13.700 ma almeno abbiamo avuto chiaro che in questo momento vedete almeno i 13.100 li abbiamo recuperati e li abbiamo mantenuti non abbiamo non so chi mi chiesi 14.000 io in realtà forse l'ha chiesto per il future ma in realtà il mio obiettivo è arrivare qui ci mancano 400 punti sembrano tanti ma non lo sono poi vediamo ma anche il Nasdaq non è mai crollato proprio per i posizionamenti che vi ho detto vedete quanto è importante analizzare questi dati quindi il mercato è sostenuto anche il Nasdaq mi preoccuperei magari sotto i 12.8 allora là si comincerei a valutare ingressi short magari di su base mensile poi si vedrà però su base settimanale anche qui se non perdiamo almeno quel livello o vedo una caduta molto profonda non mi vado a far infischiare tenete presente che oggi comunque quando fanno questi tipi di movimenti dove voi vedete dei picchi sono tipici proprio dei dati inflattivi dovete tenere presente che sono assolutamente normali se voi andate a vedere le statistiche del dato dell'inflazione come si muove come si muovono gli indici creano sempre movimenti molto importanti su base mensile quindi comunque abbiamo sempre un Nasdaq che si sostiene bene il Dow soffre un po' di più ma ovviamente questo è normale perché essendoci il settore bancario industriale c'è un po' di preoccupazione ma come vedete nel complesso anche qui che cosa è cambiato poco e niente certo 34.000 non me li ha rotti vedete il livello l'abbiamo calcolato correttamente a livello volumetrico vedete tutte false rotture e anche qui la partita si giocherà 32.712 ma nel complesso vedete siamo in un grandissimo laterale da iniziare è cambiato assolutamente nulla ecco perché diventa più difficile poi operare anche il Dax che è diventato proprio stagionità tipica io ve lo dissi e vi avvisai a suo tempo il Dax dopo Pasqua cominciate a farvi segni della croce sia qualche giornata bella ma guardate qui cioè c'è un range veramente brutto non ci sono grandi possibilità per esempio anche il Dax deve rompere almeno i 15.6 per darmi qualche struttura complicata noi quindi continueremo tra alti e bassi a puntare a questi nuovi rialzi anche il mese di aprile è stato molto positivo è probabile vi ripeto ve lo dissi già il mese scorso magari su metà maggio potremmo avere qualche tumulto i dati ci hanno mostrato nonostante i segnali di allentamento dell'inflazione un qualche preoccupazione che probabilmente questi tagli dei tassi non verranno così presto ma era logico da pensare anche perché dovete capire che un taglio dei tassi frettoloso farebbe crollare il mercato uno perché dovete capire una cosa tagliare i tassi in un contesto di crisi bancaria significa che ci sono molto più problemi di quelli che dicono quindi adesso siamo in un momento chiave per i mercati siamo arrivati a maggio maggio statisticamente è un mese dove di norma si fa il sell and make perché si chiudono le operazioni si prende il dividendo e poi si ritorna a luglio a comprare i grandi fondi fanno un accumulo di azioni però è giusto dire che l'entità di un eventuale ribasso se ci sarà dipenderà potrà creare una fase importante che potrebbe durare anche fino ai prossimi rollover di settembre quindi per ora ogni dato sarà il pretesto per far correre i prezzi anche i dato macro abbastanza positivi aiuteranno questo trend io per ora vi torno a ripetere non ho ragioni di cambiare quello che vi ho detto da gennaio io vi vi marco un po' le pause del mercato vi disse a febbraio ci sarebbe stata la correzione fino al rollover anche qui è possibile che potremo assistere dei tumulti legati a questa situazione ma nel complesso al di là che l'SAP possa crollare 100-200 punti o più la struttura essenzialmente rimane rialzista ovviamente maggio è un mese che può essere utile a fare degli ottimi riacquisti per chi l'era ancora comprato magari sul lungo termine ovviamente quindi vi ripeto proprio perché c'è questo equilibrio anche di posizioni questi scontri di divergenze si crea una sorta di stabilità che poi dovrà pendere da un lato all'altro prima o poi lo faranno però nel frattempo ovviamente vedere grandi movimenti diventa molto difficile quindi io continuo a monitorare e personalmente ritengo che il mercato potrebbe salire lentamente fino ad agosto o meglio settembre diciamo prima dei rollover di norma settembre nella prima settimana ha dei giorni rialzisti poi con i rollover comincia a fare dei forti forti correzioni per poi ripartire magari a metà ottobre fino a ottobre ma poi lo vedremo quindi per ora questa è la situazione degli indici poi rapidamente l'oro ci ho poco da aggiungere ve lo dissi al di là di quello che io posso dire ma il dollaro debole la protezione dell'inflazione il problema delle crisi bancarie si cerca un asset di protezione ma anche un po' fuori dal sistema perché quindi non comprare oro fisico continuano le accumulazioni sostanzialmente vi dissi 1950 questo è il livello di controllo non ci è manca arrivato vicino non cambia il livello di controllo continuiamo a cercare di 2100 c'ho poco da aggiungere sull'oro ho sempre difeso le mie posizioni ve l'ho sempre detto fin dal 2019 che l'oro nel lungo termine avrebbe magari non ha ancora abbattuto l'inflazione ma lo farà perché il valore reale dell'oro con l'inflazione attuale non può essere questo piano piano arriverà quindi come protezione come una parte del portafoglio avere questo strumento è sempre una buona idea ovviamente ve lo dissi già comprare 2000 dollari a lungo termine non è proprio il massimo cerchiamo statisticamente l'oro sale molto bene a fine anno quindi magari approfittare dell'estate per cercare qualche possibilità di rientro poi la questione del petrolio lascia il tempo che trova recessione tagli ma in realtà l'oro è l'oro nero è in range nel senso che in questo momento il petrolio sta in una situazione essenzialmente piuttosto laterale ma come vedete qui sono tutti bei movimenti caccia stop già sapete opzioni eccetera ma in questo momento quello che vi posso dire è che in realtà se metto un grafico daily vedete essenzialmente è bloccato io continuo ad avere una posizione annuale sui 50 dollari come target ci sta ma per ora rimane bloccato tra 60 e 80 nel caso che comunque i mercati dovessero crollare un po' in quei prossimi giorni potremo avere una importante correzione io già ve ne parlai che sul petrolio mi aspettavo almeno un giro diciamo un correttivo per capire se c'è veramente forza l'area dei 67 dollari in questo momento è un importantissimo supporto e anche quella dei 70 da qui vedremo il comportamento ma in realtà è bloccata tra 60 80 e 82 secondo me a 50 dollari ci possiamo arrivare anche perché il rischio recessione nel senso il rischio contrazione c'è già quindi i consumi potrebbero diminuire ma in generale è in laterale quindi questi movimenti qui sì c'è un doppio minimo ma c'è anche un doppio massimo lascia il tempo che trova poi abbiamo l'euro dollaro che anche qui molto poco da aggiungere sicuramente io continuo a cercare i famosi la famosa chiusura del gap siamo arrivati a 1,11 probabilmente l'euro dollaro può vivere una fase correttiva ci sta pure con un dollaro che prende un po' di tonicità scusate vedete c'è un paio di giorni ha fatto un triplo minimo sulla base annuale non è ancora confermato al 100% però potremo assistere a qualche rimbalzo importante magari più verso l'estate ma compresso l'euro dollaro rimane rialzista su base mensile non escludo ovviamente proprio graficamente si chiama proprio una bella correzione magari non dico 1,0724 ma almeno 1,08 occasione importante diciamo il ritraccio per poi poter ricomprare a medio lungo le politiche della BCE rimarrà comunque improntata al rialzo dei tassi almeno altri due secondo me li devono fare poi si vedrà anche la sterlina graficamente sta andando benissimo siamo arrivati al nostro target praticamente di cui parlavamo proprio il mese scorso 1,27 perché qui c'è una resistenza statica storica ci sono ulteriori spazi di rialzo non lo metto in dubbio però bisogna vedere anche domani che cosa ci dirà il Bank of England quindi dicono che i rialzi lo faranno lo decidono all'ultimo momento io se dovessi vedere qualche storno qui cercherò di magari tra 1,24 1,25 ottimo 1,23 ovviamente rimane il supporto mensile su questo range qualche ritraccio sarebbe ideale poi per tornare a comprare mi aspetto anche qui una situazione di scarico importante quindi anche 100 200 punti non sarebbe male per quanto riguarda il Bitcoin rapidamente non ho molto da aggiungere anche qui siamo in una fase laterale chi ha comprato non vuole vendere ve lo dico in maniera molto semplice Yodler eccetera chi ha comprato non vuole vendere anche quello che è successo con Binance proprio da ignoranti che quelli avevano avuto hanno bloccato i prelievi perché c'era un problema di rete la gente ha cominciato a vendere Bitcoin però non è successo niente non ha avuto un grande effetto anche Bittrex è fallito non ci sono effetti chi ha comprato tiene e chi vende vende pochissimo ma non ha un effetto strutturale questa situazione ciclicamente ovviamente ci dice che maggio è un mese ribassista ma un'area tra 26.500 e 25.000 se tenuta se dovessimo arrivare lì sarebbe veramente un bel punto per ritornare a comprare anche sulle cripto ho una view molto positiva siamo alla luce dell'alving ovviamente non mi aspetto 100.000 ma per entro fine anno inizio anno io ho almeno l'area di 45.50 un ritest ce la vedo tranquillamente ovviamente adesso mi aspetto però che il Bitcoin possa fare ciclicamente qualche mese di storno e riaccumulare in estate quindi un ritorno verso area 25.22 non l'escruderei ovviamente ci vogliono movimenti veloci eccetera se torniamo su B30k e vediamo pressione ci sta ma c'è anche un'altra cosa che sta aiutando il Bitcoin proprio la situazione dei mercati oro e cripto vengono visti come una difesa ovviamente Bitcoin è più volatile quindi bisogna anche accettare ci sono dei movimenti molto più difficili ma ci sta poi vado a vedere un po' di domande ho fatto un po' una carrellata sperando di essere stato chiaro ho cercato di darvi una view più completa possibile e chiudiamo il nostro webinar SP long no da questi livelli comprare si compra sulla forza mentre scende il coltello verso il basso Marco a parte che non ti posso dare un'operazione di questo tipo perché non posso farlo e poi ti ripeto oggi siamo in un mercato correttivo e comprare adesso si ti fai uno scalp magari ma l'ottica è fare un'operazione dove il prezzo riparte quindi abbiamo assistito stiamo assistendo a uno scarico di circa 70 punti c'è una bella pressione da parte dei venditori delle put quindi prima di andare a pensare di fare un acquisto vorrei vedere un po' di forza nel prezzo qualche uno spike poi un pullback magari recuperare un po' di zone volumetriche non andiamo a lanciarci perché c'è il livello no bisogna comprare quando abbiamo le informazioni che ci offrono questa indicazione 10 anni sembra puntare al 3% si Jack sono d'accordo del default usa ve l'ho detto non vedo non vedo problemi ogni anno ci hanno lo stesso poi si è vero che i credit default swap stanno scontando un rischio più alto sinceramente guardate con questo governo americano tutto è possibile nel senso sono capaci di fare molta più confusione comunque il deadline è al primo giugno quindi aspettiamo la deadline vediamo Intel rimane sempre indietro rispetto a Nvidia i fondamentali di Intel sono buoni ma non ha più raggiunto i massimi dalla bolla dot com non la vedo allora io Nvidia ce l'ho quindi si Intel in realtà non è che non sia un buon investimento ci mancherebbe il problema è che vi ripeto ho visto anche altre società ma questo è un problema mi sembra che lo commentai il problema è che c'è un'altra domanda quindi in questo momento la situazione per molte imprese è complicata Intel non devo aggiornarmi un attimino ma se poi lo riprendiamo la prossima volta purtroppo per ora quello che ti posso dire da un punto di vista grafico non offre garanzie però c'è una potenziale accumulazione io stare attento se i prezzi torneranno almeno sopra a 35 dollari però il tema è interessante purtroppo non ho molto tempo ma lo riprenderemo magari me lo ricordi per la prossima volta mandi una mail a infio investire.biz possiamo parlare di Intel io lo riprendo tanto comunque è un investimento di lungo quindi possiamo anche aspettare e volentieri ne parliamo tutti insieme Luca senza problemi pensi che si romperà qualcosa nel mondo con questi tassi così elevati sì che si romperà qualcosa ma già si sta rompendo qualcosa il problema è che si cerca un rallentamento economico ma i danni che si possono creare poi nel lungo termine bisogna vedere se l'economia riprenderà come dicono loro tutto il mondo che sta cambiando la famosa fase di deglobalizzazione di cui parlamo già qualche anno fa è in corso quindi l'inflazione comunque serve ad aiutare le imprese a far ripartire su scala locale e andiamo avanti i rendimenti del BTP a 30 anni sono arrivati al picco vista che sconta nel futuro Marco guarda io ritengo che è molto probabile però il cambio sarà molto lento ci vorrà un po' di tempo però sì sono d'accordo poi dipende dal tipo di investimento che vuoi fare però io per ora io ritengo che il mercato obbligazionario a parte che molti di voi hanno fatto mi hanno detto già qualcuno di voi ha fatto delle operazioni molto interessanti anche di breve però ritengo che questo mercato cioè con i BTP ci andrei un attimino piano però sono d'accordo nel vedere nell'obbligazionario delle opportunità io sono più a favore dell'obbligazionario USA sia governativo che corporate sono sempre stato a favore perché proprio questo dibattito del debito se posso dare magari un'idea su cui potete lavorare dà una possibilità di ingresso io sul BTP non ci lavoro più di tanto e te lo dico su obbligazionario lavoro solo su certe finestre però quindi dovete capire una cosa io per esempio vado sempre per opportunità se l'America va in default che succede tutto crollo le economie i mercati quindi il fatto che l'obbligazionario in questo momento è sotto pressione secondo me è un'opportunità secondo me sì secondo me è una grande opportunità magari per fare qualcosa di breve ma secondo me ci sta tutto quindi tenete presente che il congresso sempre sempre dagli anni 60 e poi ha sempre deliberato a favore i repubblicani che vogliono il taglio di spese tutti quei giochini politici che a noi non interessano quindi secondo me lì c'è una bella opportunità secondo me acquistarli a prezzi convenienti questo secondo me è qualcosa di molto più interessante però ti dico sul BTP la situazione è un po' più interessante nel senso che secondo me sì siamo molto vicini al picco però ti ripeto la BCE continua un po' a fare pressione dobbiamo vedere se dopo che tolgono la liquida da luglio cambia qualcosa Facebook è raddoppiato nel giro di pochi mesi Arduino ma chi compra a questi prezzi per me sono in piena bolla eh no ma allora ragazzi voi dovete sempre ricordarvi che in America è consentito il buyback prima di tutto quindi anche certe valorazioni sono confiate ci mancherebbe altro le azioni vanno sempre comprate nei periodi di accumulazione ma vi ripeto scusate vi ripeto in questa situazione l'unica cosa che potete fare è stare attenti ovviamente Facebook è arrivato un bel picco come tutte le cose se uno vuole rientrare deve aspettare uno store io non ce l'ho in portafoglio ve lo dissi già io ho comprato la grande impresa americana che comunque mi dà garanzia ho comprato a ottimi prezzi quindi posso gestire anche il rischio però dovete capire io lo guardo sempre in questione di opportunità poi dipende da voi quello che che tipo di acquisti volete fare c'è chi fa speculazione c'è chi compra a lungo termine ognuno ha la sua opinione io la condivido ci mancherebbe ci mancherebbe per questo non cioè se uno dice il mercato è in bolla ma il mercato è in bolla dal 2008 dal 2009 scusate quindi sappiamo benissimo il perché di questa situazione e di solito queste poche azioni mantengono la struttura bene però vi ho detto che i fatturati stanno aumentando se posso permettermi se posso dare un consiglio studiate un po' i fatturati di molte imprese tech vi daranno un'idea della situazione che poi sì tutta questa situazione magro porterà un dimanziamento sicuramente nel futuro io sono d'accordo ma è ovvio che non vado a comprare su dei picchi ma un pullback sarà necessario poi per entrare meglio io ti ripeto facebook non ce l'ho per una scelta mia precisa sono più orientato all'intelligenza artificiale su cui sto studiando alcune opzioni ma comprare un pezzettino di futuro ma anche qui sono investimenti a lungo qua si possono fare operazioni trimestrali tranquillamente portarsi a casa un ricco 20 30% perché no e poi uscire ci sono sempre alternative per lavorare sulle cose non tutto è bianco o nero ecco il mio consiglio è cercate di trovare sempre delle opportunità se non vi piace comprare facebook a lungo termine qui nessuno vi dice che lo dovete fare queste sono scelte personali però ci sono opportunità magari fare degli acquisti da gennaio a marzo da ottobre a dicembre per farvi un esempio ecco usate magari i cicli dell'anno dove ci sono possibilità per vedere delle accelerazioni di prezzo se l'anno è rialzista come di solito è quando il primo trimestre è rialzista dovremo avere questa situazione ovviamente in un mercato in cui tutto cambia continuamente alla fine però vedete le cose rimangono quasi sempre le stesse cioè alla fine quello è il modo di lavorare quindi non è che prende e cambia quello che cambia è la volatilità voi potete fare tutte le speculazioni che volete però ovviamente io sono d'accordo che in un portafoglio di lungo una qualità bisogna inserirla poi è anche giusto mettere magari qualcuno mi ha detto io a 100 dollari comprerò tesla non la vedo io non sono d'accordo per una scelta mia un mio modo di lavorare ma non è che se lo compri e vedi che tutti lo compri e tu la prendi un'opportunità puoi fare qualche soldino capite è tutta una questione di come gestite le cose va bene ragazzi io devo chiudere io per ora ripeto vi ho dato la mia view non i livelli su cui ragionare per eventuali reversal del mercato per ora abbiamo avuto dei segnali contrastanti ma siamo ancora in forte range state attenti alla chiusura di venerdì partire da lì potremo assistere a qualche accelerazione se il mercato continua a scendere potremo avere un periodo ribassista di qualche settimana e poi da lì vedremo l'evoluzione vi ringrazio come sempre per la numerosa partecipazione vi auguro una splendida serata e ci vediamo fra un mesetto sempre qui con l'economista questa settimana prossima con Riccardo faremo due incontri seguiteci su investire.biz a presto grazie a tutti grazie a tutti